Potenziamento dei controlli stradali da una parte e lavoro di prevenzione con le giovani generazioni dall'altra. Questo è il risultato della riunione che si è tenuta in prefettura dell'osservatorio per il monitoraggio degli incidenti stradali che ha affrontato la tematica della sicurezza della strada regionale 71, l'arteria, spesso teatro di tragedie della strada, alcune mortali e altre con gravissime conseguenze. Oltre ai membri dell'osservatorio erano presenti anche il presidente della provincia di Arezzo e i sindaci dei comuni interessati dall'attraversamento della strada regionale. Tutti d'accordo sulla pericolosità soprattutto di alcuni tratti. Si è quindi deciso di proseguire nell'attività di prevenzione ed educazione stradale già in atto con il diretto coinvolgimento degli studenti e di prevedere un potenziamento dei controlli stradali da parte delle forze di polizia. Il giusto equilibrio, scrive la prefettura in un comunicato stampa, fra le attività di controllo e repressione dei comportamenti pericolosi, costituiscono la strada migliore per perseguire l'obiettivo della progressiva diminuzione dell'incidentalità stradale.